Abbiamo terminato le parti curve, la linea che prosegue è di un centimetro e mezzo, pertanto misuriamo un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo e sarà un centimetro e mezzo fino alla fine. Questo è metà papillon, metà sagoma, vedete? Taglierò il cartoncino e andrò a tagliare attorno all'arrotondamento creato, cercando di farlo il più esatto possibile. Taglio la puntina, stacchiamo e a questo punto dobbiamo ricopiare su un altro cartoncino questa sagoma e attaccarsela qui perché questa è una parte e questa è l'altra del fiocco, sono due parti uguali. Grazie a tutti.